Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto qualcosa di molto particolare perché sono stata contattata qualche settimana fa dalla signora Roberta Curti su Facebook per fare da sponsor e per me è una gioia infinita. Questa sarà la prima parte che farò qui su TikTok che sono a casa, la seconda parte la farò con Alice per poi fare il video completo su YouTube. Allora vi invito, se siete curiosi, avete domande, se vi piacerebbe acquistare uno di questi prodotti di iscrivervi in privato se siete veramente interessati o se avete qualche domanda da farmi io sarò lieta di rispondervi oppure mi contattate su Instagram sempre in privato così magari vi posso dare il mio rumore di telefono per contattarmi su WhatsApp. Allora partiamo dal fatto che il prodotto che mi è stato mandato in omaggio è della marca Equin America. Eccola qua. Equin America. Amore per i cavalli. Adesso vi andrò a leggere un attimo la storia per capire un po' meglio di cosa si tratta. Allora, l'Equin America ha sviluppato una gamma di prodotti per cavalli altamente efficaci. Sono tutti prodotti con ingredienti di alta qualità e conforme alle normative FEI. Negli ultimi anni Bruce Snipes ha aperto la strada allo sviluppo di integratori per cavalli. Ha creato il Cortaflex che è il numero uno dei prodotti per l'articolazione ed è utilizzato dai principali cavalieri istruttori di tutto il mondo nelle var discipline equine in ogni momento delle competizioni sportive. Altri prodotti top sono la glucosamina e il buttless antinfiammatorio e lo doping. Oltre la serie integratoria altamente concentrata e appetibili agli equini. L'Equin America nasce nel 1998 negli Stati Uniti d'America specializzata in supplementi per alte prestazioni. Infatti sono elettroliti molto appetibili. La polvere di mela contiene tutti i sali minerali per idratare il cavallo ideale per saltatori, cross country, monta, americana ed endurance. Elettroliti, quelli che mi hanno messo, sono da 1,8 kg che comunque possono andare avanti un mese. Adesso vi faccio vedere. Eccolo qua. Questo è il prodotto che mi è stato mandato. Ovviamente tutto scritto in inglese, insomma. Ringrazio veramente tanto la signora Roberta Curti per avermi comunque contattato e per avermi preso tra i suoi sponsor che a quanto ho capito sono tantissimi cavaliere e tanti amazzoni che aiutano in questo progetto, in questa collaborazione e io sono molto felice di farle parte insieme a Bailando. Infatti lunedì porterò gli elettroliti in scuderia per provarli dopo il lavoro perché questi elettroliti vanno praticamente somministrati al cavallo dopo che ha lavorato. Nel Mangime, poco, perché altrimenti si risperde il principio fondamentale ecco, della reidratazione del cavallo. Quindi io sono veramente felice. Davvero mi invito a scrivermi se siete interessati alle discipline. Sono praticamente tutte dal trekking, dal letto, dal salto stabile, dal cross country, monta americana, chi più ne ha più ne metta. Quindi secondo me è un'ottima iniziativa. Sono contenta perché presto metterò il video anche sul canale, completo. È un buonissimo inizio nonostante ho pochissimi iscritti sul canale di YouTube però grazie a voi stanno crescendo, come ho detto anche nello scorso video. Siete veramente fantastici. Vi amo. E quindi il video finisce qua. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia un po' suscitato interesse nel chiedermi in cosa consiste, come mi hanno contattato. Non so, magari sono le domande che uno si fa lì per lì guardando il video. Io vi giuro che sono... non so se il re non rende la mia gioia in questo. Infatti l'ora di nome dell'ora di fare il video completo con l'Alice. Alice mi stai guardando, ciao. Ciao a tutte. Non vi preoccupate, il video saluti, lo rifaccio con tutti i vostri nomi, come promesso, perché siete in tantissimi. E niente, io vi saluto e per qualsiasi cosa scrivetemi sotto. Ciao! Ciao a tutti e benvenuti nella seconda parte del video sponsor. Oggi sono qui in scuderia, come promesso. È lunedì e infatti ho Alice su bailando a lezione. Infatti una volta che il cavallo avrà finito di essere lavorato, ve l'ha riportato nel box e all'ora appunto in cui vengono governati inseriremo gli elettroliti in polvere al gusto di mela. Quindi faremo anche il video, vi spiegheremo un pochino meglio le dosi, come va appunto somministrato e vedremo come il cavallo reagisce. Ma sicuramente bene perché bailando in golosone. Ciao a tutti. 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 per aver visto il video. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.